Grazie, non c'è alcun problema trasformarlo in ordine del giorno, sappiamo benissimo che è unicamente una formalità, di fatto non è cogente neanche la mozione, l'impegno della mozione. Detto questo, l'unica cosa che ci interessa, che sia con emendamento, che sia come mozione, ordine del giorno, qualunque cosa, è il voto e il contenuto politico del voto da parte del Partito Democratico su questa proposta, dato che è stato un elemento chiave della campagna elettorale di Pisapia la trasparenza in tutte le forme e soprattutto, citando testualmente il programma elettorale, la trasparenza dei percorsi decisionali. Qui, con questa proposta, diamo la possibilità alla Giunta, come Consiglio Comunale, di rendere realmente la casa di vetro questo palazzo, una casa di vetro, come di fatto è stato utilizzato, sbandierato fino adesso in campagna elettorale, in tutto questo periodo. La proposta è molto molto semplice, quella di trasmettere via web e di registrare, quindi di fornire un archivio video, le sedute di giunta, così come avviene per il Consiglio Comunale. Questo ovviamente è semplice come concetto, semplice se c'è la volontà politica di farlo. Quindi sappiamo benissimo che nessuno di noi nel Consiglio Comunale, negli assessori della Giunta, abbia nulla da nascondere e per questo crediamo che in linea col programma elettorale sia un voto scontato quello di dire sì a rendere trasparenti, a rendere la casa di vetro anche le riunioni di giunta, dove di fatto al momento è possibile solo le leggeri verbali, ma consci del numero di deliberazioni che viene fatto e della difficoltà di consultare con costanza l'arvopettorio, dare la possibilità di seguirle in diretta al cittadino, è sicuramente un segno di grandissima apertura. Con questo sappiamo benissimo che la Giunta non è obbligata a farlo e che sarebbe un qualcosa d'avanguardia. Bene, dato che ha fatto della trasparenza una proposta chiave del programma, noi la sfidiamo e facciamo questa proposta d'avanguardia. Vediamo se il Partito Democratico risponderà. Grazie Presidente, molto evocativo questo intervento del Presidente Palmeri. Credo però che ci stiamo sviando rispetto anche un po' alle osservazioni, in cui invece credo di ritrovare molte delle riflessioni fatte in questo periodo, in cui ci siamo molto interrogati sui temi della trasparenza, della rendicontazione, della capacità di raccontare ciò che sono le attività di cui ci prendiamo responsabilità. E devo dire che l'intervento del Presidente Cappato in gran parte riprende quelle che sono le osservazioni che all'interno del Partito Democratico abbiamo fatto. Non abbiamo nessuna difficoltà a misurarci con degli interventi che permettano una maggiore trasparenza, non facciamo però una battaglia ideologica che va ben oltre quelle che invece sono le competenze e le priorità tanto del Consiglio quanto della Giunta. Credo che la trasparenza dell'attività della Giunta risieda negli atti che al termine di ogni riunione di Giunta possiamo misurare e valutare, per cui quello che è l'iter all'interno delle attività della Giunta, la discussione che sicuramente popolerà lo scambio e la costruzione di posizioni all'interno dell'organo collegiale, credo che non sia un indicatore di maggiore o minore trasparenza rispetto a quella che è l'attività. Mi sembra, se posso permettermi anche ridondante, la proposta di andare a dettagliare le proprie sedute laddove siano pubbliche, perché ciò che viene fatto in pubblico di per sé può essere affidato al web e a qualunque tipo di racconto che la cronaca o le istituzioni ne vogliano fare. Quindi voteremo in maniera negativa questa proposta di mozione. Grazie.